Internet è il luogo in cui i minori sono più a rischio. Questo è il risultato dell'indagine di Ipsos per Save the Children, che mette in evidenza quanto si a rischio alla tutela dei ragazzi in Italia. Non solo internet, ma anche scuole, oratori, parrocchie e strutture sportive sono emersi dalle indagini come potenziali luoghi in cui è possibile subire comportamenti inappropriati, maltrattamenti e abusi da parte degli adulti. Per circa un adulto su quattro e un ragazzo su cinque in Italia e così, mentre internet è considerato un luogo a rischio da circa otto adulti e sette ragazzi su dieci. Tra i pericoli principali per i bambini ci sono la possibilità che vengano loro imposti rapporti fisici indesiderati o che vengano compiuti una serie di illeciti attraverso internet, tra cui la richiesta di inviare immagini intime in cambio di regali o di diffonderle senza il consenso dell'interessato. Il considerare internet poco sicuro è dovuto anche alla possibilità per i ragazzi di accedere sempre più facilmente alla rete. Infatti la rete è un luogo a rischio per l'85 per cento degli adulti e il 74 per cento dei ragazzi. Ma il dato più preoccupante che emerge è che il solo 7 per cento degli adulti italiani ritiene che i minori siano completamente tutelati nel nostro paese. A tale scopo, Save the Children oggi porterà in Senato un manifesto di dieci punti per favorire l'adozione in Italia di un sistema di tutela dei minori.